Salve amici, per il Super Weekend ecco scontato del 20% questo avvitatore ricaricabile 4 in 1. Questo è già operativo, ha una batteria da 4 volt agli ioni di litio e si ricarica tramite una prolunga usb. La cosa interessante è che ha una coppia massima di 10 N per metri, quindi per montare dei mobili dell'IKEA naturalmente, però una buona coppia per questo utilizzo. Ha un numero di giri nominali a vuoto di 200 giri al minuto, questo è il massimo. Ha in dotazione 26 bit da 25 mm e 2 bit da 50 mm, ma quello che lo spiega bene è che ha in dotazione anche tutti questi altri accessori. Io vi dico la verità, non lo comprerò anche se garantito tre anni, perché ne ho già comprato un altro, che ora vi faccio vedere. Praticamente l'altro che ho comprato è questo. Come vedete è Cecco Raptor, ha 4 N per metri in coppia massima, ma anche questo è accessoriato con vari mandrini. Non solo, si può tagliare, come vedete, ad esempio il cartone, nel feltro, si può tagliare anche il policarbonato, qui probabilmente sta tagliando del polistirolo, non so se si possa tagliare anche il plexiglass. Ancora, ha anche il mandrino eccentrico, come vedete, quindi si possono avvitare o svitare anche viti in posizioni piuttosto particolari. Infatti ha la testa di attacco di taglio, come avete visto prima, la testa di compensazione eccentrica, la testa di compensazione ad angolo. Vedete? Quindi diversi mandrini. E' molto molto interessante. Viene dato in valigetta, questo ovviamente è la valigetta del Cecco Raptor, che però, come dire, costa 28,90€, quindi 8,90€ in più. Secondo me a 19,90€ è veramente preso molto molto bene. Poi fate come volete. Se vi piacciono questi contenuti iscrivetevi e mettete un like. Grazie.